Passiamo quindi alla sesta presentazione di questo pomeriggio che viene fatta da Everest Italia S.P.A. andiamo qui con noi Valentina Avantaggiato Ciao Valentina ti chiedo di condividere ti chiedo di condividere la presentazione ti lascio la parola perfetto, grazie si vede tutto? perfetto ottimo, perfetto allora buon pomeriggio a tutti grazie innanzitutto per essere qui presenti ad ascoltare questa breve presentazione come appunto anticipato anche questa mattina abbiamo davvero pochissimo tempo però cercherò di raccontare e fornirvi le informazioni diciamo più importanti su Everest e che difficilmente potete reperire sul nostro sito purtroppo la collega Alessandra oggi pomeriggio non potrà partecipare perché è stata ingaggiata in una riunione improvvisa pertanto ci sarà soltanto io entrambi comunque lavoriamo per l'ufficio delle risorse umane di Everest e ci occupiamo principalmente di recruiting sia di profili junior che profili senior per le sedi di Milano e Torino entrando un po' più nello specifico di che cosa è Everest noi siamo una società di consulenza informatica siamo una multinazionale di matrice spagnola facciamo parte del gruppo NTT data dal 2014 ma siamo una società indipendente presente in 17 paesi a livello internazionale che coprono appunto l'Europa, gli Stati Uniti e il Sud America contiamo circa 27 mila dipendenti e presentiamo su tutto il territorio 9 centri di eccellenza che inglobano tutta una serie di professionisti altamente specializzati e formati su determinati ambiti tecnologici per più di 5 anni ci sono più di 250 clienti con i quali Everest ha lavorato per più di 5 anni quindi questo sta a dimostrare comunque la soddisfazione che i nostri clienti hanno riscontrato nelle soluzioni che gli abbiamo proposto perché fondamentalmente noi ci andiamo ad occupare di implementare delle soluzioni informatico di fornire dei servizi informatici a clienti operanti in tutti i settori di mercato dopo vedremo quali sono per quel che riguarda l'Italia Everest è presente in tre città a Milano, Roma e Torino Milano è la sede più grande Torino invece viene considerata un po' una nostra start up perché in realtà è una sede che è stata inaugurata l'anno scorso e conta ad oggi ancora 30 dipendenti ma l'obiettivo per i prossimi anni è quello sicuramente di accrescere anche questa sede magari chissà aprirne anche altre però l'obiettivo del business è quello di arrivare a quota 100-150 dipendenti anche per la sede di Torino ad oggi sul territorio nazionale contiamo circa 900 professionisti ma per noi questo non rappresenta un limite anzi rappresenta un valore aggiunto perché avere pochi dipendenti quindi se vogliamo dirla così ci permette di porre al centro la nostra persona focalizzandoci soprattutto su quello che è il loro percorso professionale il percorso di crescita la possibilità di conseguire delle certificazioni e di partecipare a dei corsi che permettano di migliorare la sua persona dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista delle soft skills come dicevamo prima operiamo su tutti i settori di mercato quindi immaginatevi un po' una sorta di matrice con delle business unit verticali che corrispondono ai settori di mercato di riferimento che potete vedere essere principalmente il settore energy and utilities il settore pubblico il settore bancario quello delle telecomunicazioni dei media il settore della salute e dell'assicurazione e poi abbiamo anche tutto il settore industriale che al suo interno ingloba delle sottocategorie comprendenti ad esempio il settore automotive manufacturing piuttosto che retail e fashion e tutto il settore del fast moving consumer goods quindi fondamentalmente tutti quei clienti che potete trovare banalmente quando andate a fare la spesa al supermercato quindi ci sono dei consulenti che sono specializzati sul settore di mercato e dei consulenti che invece lavorano su delle altre business unit che invece sono orizzontali quindi trasversali a tutti i settori quindi abbiamo una business unit dedicata al mondo SAP una business unit dedicata alla business consulting che è fondamentalmente un'area dedicata alla ricerca di nuovi clienti, di nuovi progetti e strategie un'altra business unit dedicata ad attività di testing della soluzione piuttosto che di supporto tecnico proprio al funzionamento di quella soluzione e a tutto il mondo dell'analisi dei dati infine abbiamo l'area technology che anche questa è trasversale quindi ciò vuol dire che possono essere previsti progetti sia nell'ambito bancario ma anche nell'ambito industriale e che prevede attività e progetti legati al mondo dell'intelligenza artificiale piuttosto che della data analytics la cyber security e tanti altri quindi è un po' la nostra diciamo la nostra sezione di ricerca e sviluppo se vogliamo chiamarla in questo modo di conseguenza andando noi a customizzare o comunque a modificare delle soluzioni ad hoc sulla base delle esigenze del cliente ci avvaliamo ovviamente di alcuni partner tecnologici questi sono i più importanti Google ad esempio è una delle partnership tecnologiche più recenti che ci ha permesso comunque di andare ad implementare e sviluppare dei progetti fortemente innovativi legati ad esempio all'implementazione di chatbot che ultimamente sono molto richiesti sul mercato In Everest si accede come vedrete nelle prossime slide solitamente attraverso uno stage nel senso che noi non ci avvaliamo del contratto di apprendistato o dell'assunzione immediata a tempo indeterminato quindi preferiamo assumere la persona in stage con uno stage che può essere curriculare o extracurriculare dando alla persona, a un neolaureato, al neodiplomato la possibilità di vivere un'esperienza a 360 gradi quindi di capire cosa vuol dire lavorare in una società di consulenza capire come organizzasti la giornata piuttosto che anche come lavorare all'interno di un gruppo e gestire situazioni stressanti al termine dello stage si ha la possibilità se l'interesse è reciproco e se il feedback anche da parte nostra è stato molto positivo di entrare a tutti gli effetti nella famiglia di Everest e di conseguenza accedere poi a quello che è un piano di crescita personalizzato di conseguenza viene fatto un annual ogni anno solitamente ad ottobre che è un momento in cui insieme al proprio manager di riferimento e al mentor che è una figura portatrice dei valori aziendali che tendenzialmente non fa parte dello stesso gruppo di lavoro ma è esterna e ha la possibilità quindi di dare un giudizio oggettivo ci si siede, ci si incontra a tavolino prima quando eravamo in ufficio anche davanti alla macchinetta del caffè e si definiscono quelli che sono gli obiettivi professionali quindi si definisce un piano di azione per poter diciamo poi alla fine dell'anno intorno a luglio andare a capire se si è raggiunto l'obiettivo quindi se si può passare allo step successivo o se invece abbiamo bisogno di ancora del tempo per raggiungere quell'obiettivo di conseguenza ci sono dei feedback continui durante l'anno quindi non si viene abbandonati ci si può confrontare col manager con il proprio team leader con il proprio mentor per capire se la strada che abbiamo preso è quella giusta o se invece dobbiamo modificare qualcosa quindi di conseguenza dopo lo stage si entra nel modello di crescita e quindi poi si può scegliere se crescere in un'ottica manageriale quindi di gestione di persone o gestione di clienti e progetti oppure una crescita orizzontale che è la crescita fondamentalmente tecnica quindi permette alla persona di specializzarsi su un prodotto, su una soluzione o su una determinata tecnologia diventando un po' il guru di quel settore di riferimento quindi come dicevamo prima si può accedere tramite queste due strade soprattutto lo stagio curriculare per coloro che ancora devono completare l'università e questi che vedete a destra sono gli ambiti di riferimento che possono andare dallo sviluppo di un software all'analisi dei dati e all'intelligenza artificiale ciò che dovete tenere a mente è che per noi in Everest non è prioritario il titolo di studio sicuramente è un elemento importante perché avere un background tecnico-scientifico aiuta ad integrarsi in un contesto come il nostro quindi comunque in un contesto dove ci si interfaccia quotidianamente con delle problematiche che devono essere risolte anche con logica con le capacità di analisi ma ciò che per noi è fondamentale è avere tutte queste qualità che vedete quindi sicuramente una propensione per appunto la risoluzione di problemi per attività molto analitiche e logiche ma anche per il lavoro in team e il lavoro per obiettivi perché appunto si hanno degli obiettivi si ha un gruppo di lavoro a cui fare riferimento con cui collaborare per raggiungere quell'obiettivo sicuramente lavorare in consulenza vuol dire anche avere delle buone capacità di adattamento perché spesso i piani possono essere scombinati da un momento all'altro bisogna saper gestire l'imprevisto gestire le situazioni di stress e avere ogni giorno una grande motivazione e curiosità per il settore quindi noi appunto garantiamo perché potete vedere anche sul sito sul sito della Repubblica degli Stagisti che il nostro stage è davvero un'esperienza di vita a 360 gradi che ha l'obiettivo di inserire le persone con un contratto a tempo indeterminato e appunto potete visitare il sito della Repubblica degli Stagisti per vedere il premio che abbiamo ricevuto a riguardo però è proprio un'esperienza che permette anche al neolaureato di capire se Averis è il contesto giusto per lui viene data la possibilità come dicevo prima di fare dei corsi di approfondimento sia dal punto di vista delle hard skills che delle soft skills e poi ci sono anche tanti momenti di condivisione prima in ufficio era più facile organizzarli ed era anche probabilmente più divertente ora in questo periodo ci stiamo comunque qualche modo adattando al cambiamento e stiamo comunque continuando ad organizzare meeting di gruppo eventi interni olimpiadi aziendali piuttosto che quizoni a cui possono partecipare tutti quindi sicuramente diciamo cerchiamo di mantenere nonostante il momento difficile visto che siamo tutti in smart working la vicinanza tra tutti i colleghi io vi ringrazio grazie per la presentazione esatto questi sono i nostri canali social su cui vi invito magari a dare un'occhiata e se avete interesse anche solo per approfondire quello che vi ho raccontato scriveteci o visitate la nostra sezione grazie visto che abbiamo giusto un paio di minuti faccio una domanda una curiosità esistono ci sono dei periodi dell'anno in cui consiglieresti l'applicazione perché l'azienda dedica diciamo le grandi aziende tendono ad avere periodi dell'anno dedicati all'application all'assunzione oppure siete aperti tutto l'anno a valutare non so appunto come dicevi proposte di stage in realtà tutto l'anno è buono nel senso che da quando sono entrata in Everest non c'è mai stato un periodo in cui non ci fossero diciamo opportunità quindi ogni momento è buono per candidati ottimo grazie ti ringrazio per la chiarissima presentazione ti auguro buona serata e speriamo di vederci l'anno prossimo va bene grazie mille